Tino Pistori, centrocampista del Sant'Alessio, 2-2 con la squadra di Messina, un risultato che in pratica loro hanno acquisito alla fine, visto che voi eravate in vantaggio per 2-0. L'Atletico Messina è una buona squadra, è venuto qui e ha dimostrato la squadra che avete visto anche voi. Il 2-2, per noi meritavamo la vittoria. Loro ci hanno creduto fino alla fine, anche in piccolezza l'arbitro ha messo la sua. Vediamo quello che uscirà nel referto. Possiamo dire che Sant'Alessio nel finale ha avuto un calo fisico? Più che il calo eravamo infortunati, quindi non abbiamo sostituzioni perché la squadra è quella che è. Andiamo avanti così, a dicembre prenderemo rinforzi. In attesa di queste rinforze però questo Sant'Alessio deve mantenere una classifica migliore ovviamente. Sì, cerchiamo di mantenere questa classifica. Ogni settimana, non voglio dare la colpa agli arbitri o alla Lega, però ogni settimana i risultati sono questi. O pareggiamo o perdiamo, o fuori gioco o ricorre. Dico, non lo so, non si può andare avanti secondo me. Secondo te c'è una squadra favorita per vincere questo campionato di seconda categoria? Sì, ancora non conosco le altre squadre, ma in questo momento non lo so. Per me è combattuto questo campionato, per me.